La conferenza dei capigruppo ha calendarizzato per il giorno 23 gennaio una mozione presentata dal gruppo di sinistra italiana che prevede in sintesi un impegno da parte del Parlamento a intervenire sulle tre questioni poste da oltre 3 milioni di cittadini che hanno firmato il referendum della CGL. Articolo 18, voucher e questione della legislazione sugli appalti. Oggi la Corte si è espressa, noi siamo sempre abituati a rispettare le sentenze della Corte e quindi ovviamente non le commentiamo. Tuttavia pensiamo che dentro quella sentenza ci sia una scelta che purtroppo priva milioni di cittadini della possibilità di scegliere e di decidere su una questione che riguarda la loro vita, i loro diritti, la loro possibilità di lavorare senza ricatti. E quindi rilanciamo, come ha detto Susanna Camusso, per noi tutti i giorni sono buoni per chiedere che i cittadini votino al referendum per i voucher e per gli appalti. E contemporaneamente chiediamo al Parlamento di intervenire nella sua autonomia sulla normativa a partire da quella dell'articolo 18. Questa mozione verrà discussa e il Parlamento dovrà decidere. Noi auspitiamo che ci sia una larga convergenza attorno alle tre questioni che abbiamo posto. L'articolo 18, i dati sono abbastanza evidenti a tutti, riprendono ad aumentare i licenziamenti disciplinari e quella normativa sul lavoro non ha migliorato per nulla la vita delle persone, anzi l'ha peggiorata. I voucher sono l'oggetto di una discussione, di una riflessione molto ampia, più ampia, persino del recinto, dello spazio della sinistra, e però tuttavia nessuno fa una mossa. Noi chiediamo che vengano aboliti, così come è scritto nel quesito referendario della CGL. E contemporaneamente pensiamo che sia necessario e giusto intervenire anche sull'altra materia. Facciamo un appello a tutti a votare la nostra mozione, sarà un appuntamento importante per il Parlamento. Canto a questo oggi abbiamo depositato, do la parola subito a Giorgio Airaudo, un testo di legge molto semplice che interviene sulla normativa dei voucher nella direzione esattamente indicata dal referendum. Questo è l'impegno che ci assumiamo come sinistra italiana. Nella mozione chiederemo che venga indicata da subito una data per il referendum. Il 23 ci sarà il voto del Parlamento, in questo voto ci deve essere l'impegno del governo a indicare e a, come dire, convocare nella primavera prossima immediatamente il referendum. Perché, lo dico e concludo, I giovani di questo Paese che vivono di voucher non possono aspettare le alchimie parlamentari per la legge elettorale. I giovani che vivono di voucher vogliono votare a questo referendum. Non vogliono aspettare le calende greche di qualche partito che decide al proprio interno qual è l'equilibrio più avanzato. Grazie. Ovviamente, come ha detto Arturo, le sentenze si rispettano, innanzitutto si leggono, quindi aspetteremo di leggerlo, ma non si può non rilevare una contraddizione. Nel 2003 un referendum con le stesse caratteristiche sull'articolo 18 venne accolto, oggi viene respinto. Devo dire che sarà interessante leggere la spiegazione, perché a me sembra evidente che c'è una contraddizione e c'è un'incoerenza dal punto di vista delle sentenze, per quel che riguarda l'articolo 18. E' certo che andremo ad altri due referendum. Sono due referendum importanti. E' anche in corso un'attività, quello sugli appalti e quello sui voucher. E' in corso un'attività legislativa. Oggi alla Commissione Lavoro della Camera è iniziata la discussione istruttoria sulle proposte. Ci sono molte proposte, a partire da quella del Presidente della Commissione Damiano. Ogni gruppo sta presentando le sue. Noi ne abbiamo presentata una, molto semplice e radicale. Noi chiediamo l'abrogazione dei voucher. Pensiamo che non si possa ridurre il danno sui voucher. I voucher sono uno strumento inquinato ed inquinante del mercato del lavoro. Sono uno strumento che ha reso il lavoro più povero, che ha reso lavoratori più soli e più ricattabili, senza sconfiggere il mercato nero. E' stato un errore progettarli in quel modo, è stato un errore ampliarli, è stato un errore estenderli. Quindi se questo Parlamento vuole davvero intervenire, si corregge cancellandoli. Se qualcuno poi dice ci sono singole casistiche di lavoro, per esempio alcuni lavori in agricoltura e qualcos'altro, queste possono essere normate limitatamente in modo specifico, ma da uno strumento nuovo, perché questo strumento ha costruito anche una percezione nel Paese. Questo è lo strumento del ricatto, è lo strumento dell'impoverimento, è lo strumento della svalutazione. Nella mia città, Torino, durante le vacanze di Natale, c'erano le cassiere di alcuni grandi centri commerciali, che lavoravano nei weekend pagati a voucher. Quindi posti di lavoro a tempo indeterminato, o a termine, organizzati, peraltro nel commercio, che sono stati sottratti, tolti dal lavoro sicuro e spostati verso il lavoro povero e incerto. Quindi noi offriamo al Parlamento l'occasione di cancellare i voucher, se no ci penseranno gli italiani con un bel sì al referendum che si farà in primavera. E il Governo deve dire da subito quando si fa il referendum, e deve essere chiaro, perché anche qua ci sono i precedenti, che si può fare anche se si va a votare, come noi abbiamo già sostenuto presentando una proposta al Senato, perché è già successo che elezioni politiche e referendum si facessero. E quindi si può fare, non ci sono alibi, solo come si dice la confusione del Ministro del Lavoro Poletti ha potuto tra l'altro tirare fuori questo argomento che si poteva andare a votare per non fare il referendum. Ecco, il referendum si possono fare e si possono fare anche le elezioni. Quindi noi, questa è la nostra iniziativa, questo è il nostro impegno. Ovviamente, come diceva Arturo Scotto, il tema dell'articolo 18 non finisce qua. Stiano sereni i loro signori e tutti quelli che vedevano in una trigedia, in una ricostruzione di diritti sul lavoro, perché stanno aumentando i licenziamenti, non solo quelli disciplinari, anche quelli economici. Cioè, nella crisi, noi abbiamo difeso male e meno i nostri lavoratori e i nostri posti di lavoro. Noi, quella battaglia non l'abbandoniamo. Siamo pronti a tutte le iniziative necessarie, a partire da quelle parlamentari, perché si possono ricostruire anche nel Parlamento i diritti. Bisogna però, per una volta, assumere il punto di vista del lavoro e non il punto di vista delle banche. Se in poche ore si è potuto decidere che bisognava, dove avrei fatto molti errori, salvare le banche, si può, in poche settimane, in pochi mesi, pensare anche agli uomini delle donne che lavorano, quelli che ce l'hanno il lavoro e quelli che lo cercano. Io aggiungo poco a quanto già detto da Arturo e Giorgio, solo dicendo che questa iniziativa di Sinistra Italiana che sta sia sul fronte della mozione calendarizzata, sia sul fronte del deposito della proposta di legge, si unisce anche a una prossima iniziativa che sta sull'iniziativa di legge popolare sulla Carta dei diritti che completa questo quadro rivolto alle tutele dei lavoratori. Questa è un'occasione che ci consente anche in questa fase di nascita, di Costituzione di Sinistra Italiana di riprendere il dialogo con la società e con la società che soffre di più che è quella colpita dalla precarietà e quindi di ristabilire una connessione sui temi che interessano direttamente le persone quali quello del lavoro. Quindi credo che questa azione sistemica che stiamo intraprendendo e che continueremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ha proprio l'obiettivo di riconnetterci con i bisogni reali delle persone e con le difficoltà della vita quotidiana che colpiscono poi le categorie sociali maggiormente vulnerabili Arturo prima citava appunto i giovani io mi soffermo su tutto il tema della vulnerabilità femminile e di quanto il lavoro e l'occupazione femminile sia fondamentale per il contrasto anche alla violenza. Grazie. Sì, altrettanto rapidamente. Io credo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane terrà banco oltre che la discussione che commenterà quando ci saranno le motivazioni della sentenza sull'articolo 18 l'attenzione dei media e la discussione qui si concentrerà sul tentativo che è già in atto di sterilizzare il quesito referendario sui voucher attraverso un'operazione che non esiterei a definire un po' furbesca che è quella di provare a limitarne l'ambito di impiego e di applicazione a fronte di un quesito che invece pone radicalmente la questione della cancellazione dello strumento. Noi assumiamo l'iniziativa che oggi abbiamo proposto in commissione esattamente con lo scopo e nell'obiettivo di tenere ferma l'attenzione della commissione del Parlamento rigorosissicamente alla lettera e alla razio del quesito referendario. I voucher sono diventati uno strumento che serve ad altro non hanno combattuto il lavoro nero basti guardare come sono distribuiti territorialmente non c'è alcuna ragione perché per lavorare nei centri commerciali nelle beauty farm o negli stabilimenti balneari della costiera adriatica non si ripristini il contratto di lavoro a tempo determinato o eventualmente si pensi ad uno strumento ad hoc che non mortifichi ulteriormente la dignità di quanti giovani sono costretti a lavorare in condizioni sempre peggiori. Volevo chiedervi se voi non condividete un certo rammarico per il fatto che il quesito sull'articolo 18 è stato formulato in una maniera che oggettivamente propone una norma nuova cioè l'estensione dell'articolo 18 a tutti i datori di lavoro di imprese oltre i 5 dipendenti che nell'ordinamento non c'è non c'era e non c'è c'era solo per il settore agricolo c'era per il settore agricolo ma non per tutti gli altri settori resta il fatto che questa è la parte diciamo propositiva del quesito se la Cigelli avesse fatto un quesito semplicemente abrogativo avrebbe incassato prevedibilmente almeno l'ammissibilità dell'articolo 18 ex prima della legge Fornero No noi non siamo rammaricati per come è stato scritto il quesito siamo rammaricati perché il quesito non è stato ammesso siamo molto rammaricati per la virulenza e il peso politico che il governo in particolare ha messo nel tentativo di contrastare la possibilità degli italiani di esprimersi di giudicare in modo libero una legge che sta pesantemente peggiorando la loro condizione materiale Eraudolo ha già ricordato grazie anche a questa riforma sono aumentati e non di poco i licenziamenti non solo quelli disciplinari sono aumentati non solo per l'intervento immediato della riforma sono aumentati se vogliamo anche per il clima politico a cui la riforma ha contribuito cioè l'idea che oggi si può che finalmente grazie a questa riforma e al governo che l'ha promossa si può licenziare non è più un tabù anzi è perfino diciamo una possibilità incentivata del resto ricorderete tutti quando l'allora presidente del consiglio Matteo Renzi dichiarò finalmente vi permettiamo di licenziare con maggior facilità e questo è l'obiettivo di questa legge per questo lo hanno ricordato già i colleghi noi non ci rassegniamo non ci rassegniamo alla libertà di licenziare in questo paese né a questo passaggio pur rispettando la sentenza la leggeremo ma siamo fin da ora a disposizione innanzitutto della CGL del sindacato di tutti i soggetti interessati per valutare insieme tutti gli strumenti qualsiasi strumento perché questa battaglia non solo non sia interrotta ma possa continuare con la massima efficacia altre domande? va bene grazie buon lavoro grazie a tutti